Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qua con questo nuovo video di spacchettamento Vi prego, come al solito lasciate un'iscrizione al canale, non vi costa nulla ma mi date una grande mano E partiamo col video ragazzi, in attesa dei premi di Weekend League Division Rivals Niente bandierina, abbiamo un po' di pacchettini, vediamo se riusciamo a trovare finalmente un Togs Mamma mia, male male, che schifo ragazzi Che schifo Un bacchetto oro, non chiedevo di più Giocatori aeropremium, iniziamo con qualche bombetta Vediamo un po', si riusciamo a trovare almeno un walkout in questi pacchetti Niente walkout, niente bandierina, schifiamo Schifiamo male male ragazzi Oh beh, William, Bacca Rapidi, giocatori aeropremium, un altro, vediamo un po' C'è qualche pacchetto succulente, tipo un mega rari Niente walkout, bandierina Bandierina vediamo un po', Francia TS, no ma è una gioia Ci avevo doppione Mandanda No almeno è scambiabile, buono così, buono così Buono così, mandanda Ororari ragazzi, ororari Ororari Niente walkout, niente bandierina Pessimo Pessimo Andrada Pessimo pacchetto ragazzi Due ororari I mega li lasciano alla fine Vediamo un po', vediamo un po' di sculare prima dei mega Spagna Atti Bruno Fernandes No, Munir Munir va bene Va bene Lo accettiamo Munir Ok Ok, ok, ok Mega la prima o dopo Zinco premium Ah, un walkout voglio Non chiedo di più in questi pacchetti Poi domani unirò il video dei premi delle rivals Tra i pacchetti ultimi Eccetera All'anno ne vorrei di più Però vediamo un po' che esce Zinco Vediamo un po', vediamo un po' se riusciamo a sculare in questi pacchettini Niente bandierina Vai, vai, rapido Rapido, rapido Male, raga Male Zinco prime Vi siano qualche pacchettino più succulento Vediamo un po' Vediamo un po' Niente walkout Niente No, forse bandierina ragazzi Forse if addirittura No Ho preso un abbaglio Va bene così Stindle Zinco orari Zinco orari Vediamo un po' Bandierina TS francese Niente niente Spagna TD If Spero che sia scambiabile ragazzi Spero che sia scambiabile No, niente Vabbè Non ci lamentiamo di un if Ugo Maglio If Va bene così Va bene così Allora ragazzi Misti rari Dopo abbiamo un bel po' di 65 e più Dopo di che le due Bombe Per virgolette Di questo spacchettamento di oggi Poi verrò unito ragazzi Come lo dico già prima Questo video Alla weekend league Così la faranno uscire solo uno Così vediamo se riusciamo a A scullare almeno domani 75 e più Vediamo Sono un po' Niente walk out Bandiera Bandiera 65 e più Simpatica Spagna Tutta Spagna ragazzi Stasera tutta Spagna Caleon Stasera tutta Spagna Jose Maria Caleon Stasera tutta Spagna Niente bandiera Niente bandiera Dai dai Ah c'è Pong Niente bandiera Male male ragazzi Male male Turam L'abbiamo appena trovato Era scambiabile No Via 65 e più Niente bandiera 65 e più Niente bandiera 75 e più Ragazzi Gli ultimi Due 75 e più Poi c'è Niente Vediamo se almeno Nei mega Riusciamo a trovare qualcosa Niente bandiera Ok ragazzi Due mega sono rimasti Sono rimasti due mega Dai ti prego Ti prego gioco Un walk out Dai Dai un walk out Vai mega Un walk out Un walk out Dammi un walk out Niente walk out Niente bandiera Addirittura Che schifo Addirittura Adirittura niente bandiera Ragazzi Mega pacchetto Raro Vai Dammi qua almeno qualcosa Dai 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 Niente walk out Niente bandiera Che schifo Ragazzi Mentre vediamo cosa troviamo in questo pacchetto Vi dirò che unirò A questi qua I premi della weekend league Ah vabbè La bandiera c'era I premi della weekend league Quindi verrà un video unico In questi Zero totale Vediamo se domani Andrà un po' meglio Grazie mille Collegherò i video Mi raccomando Lasciate l'iscrizione Ciao ciao ragazzi Ed eccomi come ho promesso ragazzi I premi foot champions E division rivals Iniziamo subito ragazzi Il team of the week Questa settimana è proprio bello Vediamo un po' Se riusciamo a trovare qualcosa Mamma mia Pablo Obamuglant interno Ma prendiamo questo per l'overall Che schifo ragazzi Mamma mia Ci speravo oggi Perché oggi Erano giocatori buoni Un gol averla altissimo Ci speravo Invece ci tocca Piontech Va bene Dai dai Ancora non è finita Ci sono I pacchetti onzi Vediamo un po' ragazzi Abbiamo dei pacchetti ultimate Dei rari maxi Iniziamo Vabbè Apriamo i 2 mega E poi andiamo a tirare i maxi Ragazzi Apriamo i 2 mega Niente di niente Niente di niente Mamma mia Quanti doppioni Che peccato Scartarle tutti Che peccato Altro pacchetto mega Dai ti prego Niente walkout Bandierina Bandierina Spagna Ragazzi Ieri e oggi Solo Spagna E' incredibile Solo Spagna 2.83 In un pacchetto mega Ci No Bram Ce l'ho scambiabile No Ce l'ho scambiabile Grande zio Grande zio Ok ragazzi Passiamo Ai pacchettini succulenti Ancora non abbiamo dato Nessun togs Vai Rari maxi Niente walkout Repubblica cieca Portiere If Male male Uh doppio if In a pacco Vabbè dai 20k Le abbiamo fatti Non ci lamentiamo 20k Le abbiamo fatti Per il resto Non c'è nulla Secondo Giocatore Rari maxi Ragazzi Walkout Portagallo Ci spero sempre Uh if If 86 Non male If 86 Non male Ragazzi ci spero sempre Quando vedo Portagallo Ma non è una gioia Lo passo Lo passo Va bene Doppio 83 Veniamo nei doppioni Niente Vabbè Però ora Lo passo 86 Va bene Va bene Ora qua voglio Qualcosa Però ragazzi Doppio pack ultimate 125k L'uno Vai Neanche walkout Che cosa Ad Uh 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 Un talks dell'Europa League Pepe Ci piace Ci piace Ragazzi Ci piace Ma pensavo fosse Forse uscisse Come Null Joe Gomez Ci piace Ah non è scambiabile Non è scambiabile Così così Perché non lo userò mai Però Joe Gomez Invece ci piace Ragazzi Joe Gomez Ci piace Joe Gomez Ci piace Vabbè Vabbè Questo pacco Niente Niente Lamentare Ci preferivo Magari Un Mendice Dovevo Scegliere Non ci possiamo Lamentare Mamma quanti doppioni Ragazzi Mamma quanti doppioni Con tutti Con tutti Con tutti quelli scambibili Ci sono fatti Un raro Uccello 81 Più Apriamolo Subito Vediamo un po' Cosa esce Niente Walkout Ancora Spagna Ragazzi Mi sembra che C'è lo doppione Vediamo se C'è lo Della Champions Si Male 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 Ragazzi Ultimo pacchetto Ultimate Il primo Non è stato Walkout Vediamo adesso Walkout Di nuovo Luca Ragazzi Di nuovo Luca Vediamo se c'è qualcosa Sotto Ah Luca De che piani Per l'SBC Vanno più che bene Per l'SBC Vanno più che bene Nei doppioni Non c'è Assolutamente Nulla Niente Ragazzi Purtroppo Speravo Almeno di trovare Un TOGS Abbiotrato Pepe Dell'Europa League Come TOGS Diciamo Non il peggiore Ma forse Ragazzi Detto questo Ci vediamo Al prossimo video O ogni pomeriggio Come al solito In live Sulla piattaforma Viola Ciao ciao ragazzi